Ciao a tutti, un bacio nella vostra amica, si, onedaysaving.com che ringrazio tantissimo, ho fatto anche il gingolo, no beh, onedaysaving.com sotto nella info box trovate il link al sito e eventuali codici sconti trovate sempre tutto lì, che lo dico sempre però è da dire perché tante di voi non l'hanno ancora capito, non lo sanno allora, ci sono ancora quattro cosine super mega belle prima vi faccio vedere questa che magari è la meno che vi interessa comunque è utile e io l'ho presa per quello perché hanno già attaccato i due in camera con uno che c'è dentro la tela del mio chicchino che sembra il mio chicchi che non c'è più, mio cucciolotto e l'altro ci ho messo un super unicorno che ho fatto ancora io con la tela con gli abbompenti e questo è un altro specie di quadretto porta appunto tela che è così wow divino anche questo vedete qua c'è dentro la carta per far capire che comunque voi ci mettete la vostra tela colorata e dovrebbe esserci dentro anche, ecco qua, il nastrino e le nappettine, le nappettine vanno attaccate in fondo questo va attaccato aspettate voi ci infilate dentro il vostro bastoncino dentro qua rimone ce la faccio ce la posso fare ma le due anche il va vai così mica che ce la fai aspettate e adesso deve uscire anche di qua però giustamente è nuovo, è sigillato un odore di plastica, non è appena uscito dal sacchetto insomma aspettate eh mettiamolo da qua allora oh se va a dire che va a dire del lano tutto il bergamasco ecco qua ecco qua, è giusto, bello rigido, deve stare bello teso vedete qua mettete il vostro bastoncino qui, adesso io lo faccio su così senza misura la buona ecco io l'ho già attaccato anche in camera dovete fare aspettate adesso arrivo così poi fate la misura se lo volete magari un po' più in su un po' più giù questo io non lo faccio perché lo faccio e lo farò quando andrò ad attaccarlo e così rimane appello cioè per appendere qua mettete il chiudino e qua ci mettete la vostra tela e questo potrebbe essere una una soluzione per mettere a posto le vostre tele e poi i nappini vanno attaccati qua in fondo così ciondolano giù oppure se volete le attaccate se non volete non le attaccate non so comunque questo c'ha la sua bella taschina ci infilate la vostra tela e uno questi sono sempre utili poi in questo sacchettino siccome l'altra volta mi era piaciuto una cifra anche tante di voi ho detto che era bellissimo siccome ho ricominciato a leggere qua c'è sempre il kit c'è anche la pinzetta ho preso un altro segnalibro che è una seppe di finta pelle quello dell'altra volta c'era la petta l'api in tante di voi mi era piaciuto l'ho fatto vi ho fatto vedere anche che l'avevo finito appunto e qua ci attaccate tutti i vostri brillantini che sono qua e andate a fare la vostra farfallina e poi questo diventa un segnalibro insomma lo mettete nel libro fate sbucare fuori la vostra farfallina tutta colorata di diamantoni super bello infatti prendo un altro segnalibro perché vi piace poi ho preso questa cosina qua vediamo sempre il kit non manca mai c'è anche i sacchettini stavolta e qui abbiamo aspettate la lettera N di Nica che potete appendere infatti c'è il suo che dentro qua scusate l'ho tolto ecco qua c'è la catinella la mettete qua nel suo buchettino così col moschettone andate ad attaccarlo e i brillantini vanno sia avanti che dietro staccate la vostra pellicola e ci mettete i vostri brillantini che sono molto belli anche questi qua questi qua sono molto particolari molto belli questi qua grossi sono un po' di vedete un po' particolari sono anche di forme diverse perché appunto ha anche le forme diverse queste di brillantini e questa non vedo l'ora di farla di attaccare a una ripostazione una N di Nica e poi aspettate che metto dentro se no vado a finire di perdere il moschettino e la catinella non potevo non prendere questa l'avevo già presa in passato con i cualini ma l'ho regalata perciò ho detto non devo vedere una anche per me cazzo che l'altra l'ho regalata qua solito kit brillantini e questa è un'altra scatolina di quelle meravigliose che a me piacciono un sacco dove io ci metto tutte le mie cose dentro al suo piano che poi vado ad allargare e rimane appunto bello sdraiato così per essere appoggiata e qua ci sono i due coalini fantastici innamorati siamo io e il mio moe ne moe certo pellicola tacatun solito adesivo staccati tutti questi e vi esce delle scatole super mega belle perciò al prossimo video sotto link andate a scuriosare che ci sono tante cose molto carine ciao Danica ciao 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 Grazie a tutti.